era là parola per parola la poesia che prese il posto di un monte ne respirava l'ossigeno persino quando il libro stava voltato nella polvere del tavolo gli ricordava come avesse avuto bisogno di un luogo da raggiungere nella direzione sua come avesse ricomposto i pini spostato le rocce trovato un sentiero fra le nuvole per arrivare al punto d'osservazione giusto dove sarebbe stato completo di una completezza inspiegata la roccia esatta dove le sue inesattezze scoprissero infine la vista che erano andate guadagnando dove potesse coricarsi e fissando il mare in basso riconoscere la sua casa unica e solitaria